I temi del lavoro in primo piano nel nostro Tg con l'avvertenza della futura ambiente ex giuzio, la decisione del commissario liquidatore dell'Asi Giuseppe Fiengo di sospendere l'attività dal 1 agosto ha messo in allarme i dipendenti che ora temono per il loro futuro stamane il punto in regione. Manca meno di un mese alla presentazione delle liste per le politiche di settembre nel centrodestra Lucano è già iniziata la corsa, domani vertice interno al PD per varare il regolamento per le candidature. Con la campagna del pomodoro ormai alle porte torna in primo piano il tema dell'accoglienza dei migranti, ieri presidio di Libera davanti all'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio per denunciare le gravi condizioni in cui versano i braccianti dell'Alto Bradano. Estate, tempo di mare relax, per chi resta in città una valida alternativa è la piscina scelta sempre da più potentini, siamo stati in una struttura alle porte di potenza dove ancora una volta ieri si è registrato il tutto esaurito. Calcio primo test amichevole ieri per il Picerno che va a segno 14 volte contro una rappresentativa locale. Mister Longo è bello giocare con chi farà il tipo per noi. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv, lo avete sentito dai titoli, ci sono i temi del lavoro in primo piano nel nostro Tg con l'avvertenza dei lavoratori della futura ambiente ex Giuzio. La decisione del commissario liquidatore dell'Asi Giuseppe Fiengo di sospendere l'attività di sorveglianza e manutenzione delle aree industriali del Potentino dal primo agosto ha messo in allarme i dipendenti che ora temono per il proprio futuro. Stamane incontro in regione sentiamo come è andata da Donato Carbonella. Timori per i lavoratori della ex Giuzio. La possibile decisione di sospendere le attività lavorative di manutenzione dal primo agosto prossimo è stata comunicata dal commissario liquidatore del consorzio Asi Giuseppe Fiengo alla società Futura Ambiente che se ne occupava. Quest'ultima a sua volta ha annunciato l'avvio della procedura di mobilità con conseguente licenziamento del personale. Per questo motivo stamane i rappresentanti delle sigle sindacali Fime e Wilm hanno incontrato il capo di gabinetto del presidente della regione Michele Busciolano. Dall'interlocuzione è emerso che probabilmente già in settimana seguirà un incontro la presenza dell'amministratore unico di Apibas Luigi Vergari. Questa riunione noi ci aspettiamo che l'impegno che è stato preso stamattina per l'incontro prossimo con il dottor Vergari che è il presidente dell'Apibas, che è la società che ha rilevato la gestione delle aree industriali. Ci aspettiamo sicuramente che le persone che debbano continuare a lavorare, le 12 persone che praticamente si occupano della gestione delle aree industriali possono finalmente avere il proseguo e il futuro che noi ci aspettiamo lavorativo. Apibas infatti avrebbe dovuto assorbire le attività e il personale dal consorzio ASI garantendo un futuro ai lavoratori. Lavoratori che svolgendo attività essenziali non si sono mai fermati nonostante non abbiano ancora ricevuto le mensilità di gennaio e febbraio 2021. Siamo lavoratori che il più piccolo sono io e ho 55 anni quindi noi l'esito negativo non ce l'aspettiamo perché, ripeto, essendo dei lavori di pubblica utilità e gestendo gli impianti di depurazione delle aree industriali e gestendo le aree industriali, quindi la pubblica illuminazione, gli impianti di fognarie, l'approdigionamento idrico, il nostro lavoro contribuisce alla funzionalità di tutte le attività che sono locate sulle aree industriali. Mi aspetto sicuramente un aspetto positivo. Lavoratori all'opera anche durante il periodo più difficile della pandemia. Credo che il personale è stato molto responsabile in quel periodo, ha comunque garantito i servizi, gli impianti hanno funzionato e insomma è andato tutto secondo come il lavoro doveva andare. Passiamo all'emergenza. Incendi è pesante il bilancio di questo weekend per il territorio del Materano messo a dura prova dalle fiamme nel fine settimana che si è appena concluso. Tra Pisticci e Pomarico diversi roghi hanno distrutto oltre 350 ettari di vegetazione. Il dato è stato fornito dalla comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Maddalena Lisanti. Ora la situazione nei due comuni materani è sotto controllo, con in atto le operazioni di bonifica. Sabato, lo ricordiamo a Pisticci, un incendio alle porte della città aveva reso necessaria l'evacuazione di circa 150 persone rientrate a casa solo dopo diverse ore. Anche la domenica è stata molto impegnativa per i Vigili del Fuoco, in particolare per i roghi che a Pomarico hanno interessato Bosco, Manferrara e Contrada San Lorenzo, che come detto sono ora in fase di bonifica. E voltiamo pagina, manca meno di un mese alla presentazione delle liste per le politiche di settembre nel centrodestra Lucano. È già iniziata la corsa, mentre domani il PD si riunisce per varare il regolamento per le candidature. Sentiamo tutti i dettagli da Celestino Benedetto. I tempi sono strettissimi e non ci sono grossi margini di manovra. Le liste elettorali per le politiche del 25 settembre vanno presentate tra meno di un mese, il 21 e 22 agosto. E da qui, al giorno del giudizio, la strada è lastricata di trattative febbrili, spartezioni di collegi e guerre intestine che potrebbero complicare le cose. Il taglio di deputati e senatori, il prossimo Parlamento ne avrà 400 e 200, avrà l'effetto di fargli evitare il tasso di litigiosità tra dirigenti e correnti per spartirsi i posti migliori, il tutto in una situazione assolutamente inedita. Non era mai successo di compilare le liste a Ferragosto o giù di lì. La Basilicata, una delle cinque regioni in cui ci sarà un unico grande collegio uninominale, eleggerà in tutto sette parlamentari, tre senatori di cui uno all'uninominale e quattro deputati di cui tre con il proporzionale. Di fatto sono già partiti i giochi per la formazione delle liste. Nessuno da destra a sinistra, passando per il centro, è intenzionato a farsi trovare impreparato di fronte al giudizio nei collegi uninominali e nei listini bloccati. Più di qualche esponente lucano del centro-destra si è già messo in moto, fiutando l'area dei sondaggi e la possibilità concreta di entrare o rientrare a Palazzo Madama o a Montecitorio. Ma anche nel campo del centro-sinistra non mancano gli strateghi in azione. Domani a Roma il Partito Democratico ha convocato la direzione nazionale. All'ordine del giorno proprio il regolamento per le candidature. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sono i vincitori della prima edizione di Energy Earth Awards. Ieri sera alla cerimonia di premiazione al Santa Venere a Maratea, il Governatore Bardi ha dato il primo premio protagonista dell'anno per aver sempre più focalizzato l'azione della Regione Basilicata sullo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, destinando parte significativa dei proventi derivanti dalle fonti di energia fossili al risparmio energetico e alla produzione di energia pulita. Soffre la sanità lucana per la carenza di personale. Intanto proseguono le assunzioni al CROB di Rio Nero. Diverse le figure professionali reclutate, chirurghi, oncologi, oncologi, ricercatori ma anche tecnici OS e tecnici di laboratorio per garantire ai cittadini un servizio efficiente. Sentiamo Michelangelo Russo. Prosegue lo sforzo del CROB di Rio Nero per implementare l'organico delle diverse unità operative con nuovi professionisti. Dopo l'ingresso di dieci infermieri nel mese di giugno, il personale dell'istituto si rafforza ulteriormente e in tempi celeri. Nel mese in corso sono stati assunti un nuovo chirurgo toracico e un nuovo chirurgo addominale per l'equip di chirurgia e due nuovi oncologi per l'unità operativa complessa di oncologia medica che comprende anche il Day Hospital Oncologico. Sul versante della ricerca scientifica sono nove i nuovi ricercatori assunti insieme a quattro collaboratori di ricerca in attesa della stipula del contratto che supporteranno le attività scientifiche svolte nei laboratori dell'IRCS-CROB. Rinforzato anche il personale dedicato alla diagnostica con cinque nuovi tecnici di cui tre assunti da marzo ad aprile. Uno è attivo dal mese di luglio mentre la procedura di assunzione del quinto è in itinere e si concluderà a breve. Nuove forze inoltre con l'ingresso in servizio di tre nuovi tecnici di laboratorio e due OS assunti in comando. Dal mese di marzo ad oggi sono state assunte 37 nuove unità di personale tra le diverse figure professionali programmate. fa sapere il direttore generale vicario Giovannino Rossi che precisa l'IRCS-CROB proseguirà nel suo impegno non solo scientifico, medico e sanitario ma anche amministrativo attraverso attività concrete e dinamiche facendo nell'immediato tutto il necessario per garantire ai cittadini un servizio efficiente e creare le condizioni a lungo termine affinché i giovani professionisti scelgano di lavorare nell'Istituto Lucano. Passiamo all'emergenza coronavirus in attesa del nuovo bollettino della Task Force regionale che verrà diffuso nel pomeriggio dopo le 16. Vi diamo lettura degli ultimi dati disponibili continua il lento costante calo dei contagi di questa ondata estiva che secondo gli esperti dovremmo lasciarci alle spalle entro fine mese. Intanto la pandemia continua a mettere vittime in Basilicata nelle ultime 24 ore non ce l'hanno fatta una 82enne di Rago Negro e un uomo di 81 anni di Irsina entrambi ispirati in ospedale decessi che portano a 925 il numero dei morti covid nella nostra regione da quando è cominciata l'emergenza sanitaria. 472 invece nuovi contagi rilevate a fronte di 1984 tamponi analizzati con un tasso di positività vicino al 24%. Negli ospedali lucani sono 104 i pazienti ricoverati uno solo in terapia intensiva al Madonna delle Grazie di Matera 382 le nuove guarigioni che portano a 15.517 il totale dei lucani attualmente alle prese con il covid-19. Il covid-19 e le sue varianti meno aggressive stanno acquendo anche in Basilicata il problema legato alla carenza di sangue. L'Avis si appella a tutti i donatori a recarsi presso le strutture dislocate sul territorio regionale o anche nelle località di villeggiatura per compiere un gesto semplice ma estremamente importante soprattutto in questo momento. Il sangue attualmente disponibile infatti servirà a garantire le terapie salvavita a pazienti affetti da malattie rare mentre gli interventi chirurgici non urgenti rischiano di essere rimandati. Avis Basilicata per tutte le informazioni ha messo a disposizione il numero di telefono 0971 46 872 e ricordiamo che per poter donare sono richiesti un'età compresa tra i 18 e i 65 anni un peso corporeo minimo di 50 kg e un buono stato di salute. Con la campagna del pomodoro ormai alle porte torna in primo piano il tema dell'accoglienza dei migranti. Ieri presidio di Libera davanti all'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio per denunciare le gravi condizioni umane in cui versano i braccianti dell'Alto Bradano. Ci dice di più Fabrizio Di Vito. La questione si trascina ormai da tempo e torna in primo piano ogni estate con l'avvicinarsi della campagna del pomodoro ormai alle porte. Il coordinamento regionale di Libera non intende spegnere i riflettori sulle condizioni in cui sono costretti a vivere i lavoratori stagionali dell'Alto Bradano. Ieri un sit-in di protesta davanti all'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio per tornare a denunciare l'inadeguatezza della struttura che la regione Basilicata da anni ha predestinato all'accoglienza dei lavoratori impiegati nell'attività agricola e il sistematico ritardo nell'approntamento della stessa. Libera ha manifestato per l'ennesima volta tutta l'indignazione per il colpevole immobilismo di tutti i soggetti preposti, pubblici e privati che sarebbero per finalità e per interesse evocati a fronteggiare proficuamente le criticità evidenziate. I casolari che ospitano i braccianti sono privi di energia elettrica, servizi igienici e acqua e nemmeno con la realizzazione delle nuove strutture di accoglienza con i fondi nazionali ed europei a disposizione il problema, secondo Libera, vedrebbe una soluzione soddisfacente perché le stesse sarebbero ugualmente insufficienti rispetto ai numeri dei lavoratori abitualmente coinvolti nella campagna del pomodoro. Una notizia di servizio al via da oggi la campagna di autolettura 100.000 gli utenti di Acquedotto Lucano interessati con evidenti benefici sulle bollette comunicando i dati il pagamento dell'acqua sarà legato infatti al solo consumo effettivo una pratica semplice e conveniente che si potrà effettuare fino al 2 agosto telefonando al numero verde 899 22 92 collegandosi al sito internet acquedottolucano.it o attraverso lo sportello online Estate, tempo di mare e relax per chi resta in città una valida alternativa e la piscina scelta sempre da più potentini ieri siamo stati in una struttura alle porte di potenza dove ancora una volta si è registrato il tutto esaurito come ci dice Rocco Romanelli Acqua azzurra Acqua chiara Con le mani posso finalmente bere Non in riva al mare ma a bordo piscina sempre più potentini scelgono di trascorrere la domenica a due passi da casa un'alternativa più economica ma non meno divertente tra aria pulita intrattenimento buon cibo e ottima musica e di domenica in domenica si va da un tutto esaurito all'altro con un bilancio finora per quest'estate 2022 più che soddisfacente Anche questa domenica è andata bene sia giugno che luglio quest'anno sono stati i migliori mesi che io ricordi ormai sono 20 anni questo è il ventennale che Icaro ha aperto le presenze sono aumentate sicuramente complice il caldo complice il costo degli aumenti gli aumenti del carburante quindi la gente preferisce rimanere in zona per agosto se il clima prosegue così sicuramente avremo non un ultimo incremento perché chiaramente noi non accettiamo un'utenza oltre quelle che sono le capienze possibili però sicuramente lavoreremo molto bene Sorrisi e soddisfazioni tra gli utenti di questa struttura al pantano di Pignola che già programmano la prossima domenica in piscina tra divertimento e aria pulita preferisco qua perché anche per i bambini più vicino più comodo sono più gestibili diciamo a parte che qua a Piscina Icaro è più comodo è bella anche la panorama il servizio è ottimo e quindi preferisco veramente qua che il mare è una struttura attrezzata ci si diverte c'è buona musica si mangia bene e quindi uno trascorre una giornata in allegria e soprattutto anche con un clima anche se fa caldo comunque questa è una zona molto ventilata e quindi il caldo uno lo sopporta bene la giornata trascorre serenamente e molto divertente è una bellissima soluzione abbiamo trovato gli spazi giusti la gente giusta la possibilità di ascoltare anche della musica e di sentirci qualche ora a nostro agio eccellente in quanto è circondata da monti e quindi l'ossigeno l'acqua anche naturale che viene dalla sorgente di Fossa Cupa penso che oltre alla ristorazione all'animazione alla musica è il meglio che si possa avere preferiamo la piscina al mare perché comunque si sta molto bene e quindi si può vivere benissimo una giornata in relax e in compagnia e siamo al calcio di serie C primo test amichevole ieri per il Picerno che contro una rappresentativa locale vince in scioltezza unendo l'utilità del test ad un incontro che permette alla squadra di integrarsi ancora di più con le realtà del territorio sentiamo Luigi Santo Pietro 14 gol per chiudere al meglio il decimo giorno di preparazione il Picerno di Mister Longo che ha iniziato il suo percorso di avvicinamento alla nuova stagione il 14 luglio scorso ha battuto 14 a 0 una rappresentativa locale in quella che è stata più una festa che è un test vero e proprio un incontro che ha visto gran mattatore esposito con 5 reti a segno anche Sant'Arcangelo con 3 gol 2 per Battinelli 1 a testa per Pitarresi Liurni Pagliai e Finizio poco più di una sgambata per il Rosso Blu che nella prima frazione sono scesi in campo con Crespi Novella giocatore in prova della Lazio Allegretto De Franco Guerra Pitarresi Dettori D'Angelo Liurni Sant'Arcangelo ed Esposito schierati con il classico 4-3-3 mentre nella ripresa Mister Longo ha dato ampio spazio all'intera rosa disposizione il tecnico soddisfatto per questa domenica vissuta sul campo così come il direttore generale Vincenzo Greco che vede una bella risposta della squadra alle sollecitazioni del nuovo allenatore è stata davvero una sgambatura anche per credo per il piacere del sociale per essere vicini alla nostra gente quindi era era giusto sulla prima uscita ci fosse anche l'intervento un po' della cittadinanza del popolo e sinceramente per quello che doveva essere per quello che era il nostro percorso credo che abbiamo fatto una buona sgambatura e quindi nient'altro era alla fine della prima parte di ritiro e ce la prendiamo come tale come abbiamo detto come sgambatura e come vicinanza alla città perché credo che la società abbia fatto un bel gesto provando a farci giocare contro gente del posto semmai gente che la domenica verrà anche a tifarci quindi mi piace molto questa iniziativa che è vicina al sociale e ripeto al nostro popolo stanno apprendendo sempre di più quelle che sono i concetti del mister le indicazioni del mister io li seguo tutti i giorni della settimana e quindi vedo i ragazzi felici di apprendere quelle che sono le nuove indicazioni che il mister sta dando quello che è il nuovo progetto tecnico e quindi c'è grande partecipazione c'è grande soddisfazione da parte di tutto il gruppo il mister anche l'ho sentito abbastanza contento perché appunto i ragazzi lo seguono alla lettera quindi speriamo di continuare a lavorare in questa maniera sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni prossimi amiche avoli giovedì con un'altra rappresentativa lucana domenica con il Caggiano poi prova più provante con l'equip Campania e il 12 agosto sempre al curcio arriva la Cavese e dopo il test la grande festa con la presentazione della squadra e prosegue la campagna di rafforzamento del Matera il club Biancazzurro ha annunciato l'acquisto dell'attaccante centrale sloveno Erwin Tigani classe 99 cresciuto in Germania il calciatore vanta numerose presenze in seconda divisione slovena a febbraio scorso è approdato in Italia nel Gavorrano in Serie D per lui sette gol in dodici partite ufficiali con finale playoff e vittoria della Coppa Italia ed è tutto per questa edizione grazie per essere stati con noi e buona giornata e buone giornata